solitamente non parlo con molta disinvoltura di alchimia e la salute solitamente è stata sempre una una branca dell'alchimia quella della medicina quella medica e della malattia abbastanza tenuta in conto anche perché solitamente ripeto ancora si scontrava e si è sempre scontrato vedete la storia di paracelso per esempio ed altri alchimisti con i professoroni della scienza solamente comune anche perché le tecniche dell'alchimia sono differenti cioè il fatto di avere solamente un'idea di medicina è stata deleteria ed è deleteria e non è vero che sia l'unica visione medica quella che si fa in occidente io sono qui in asia da un po stando questo approfondendo anche più perché per fare qualcosa anche oltre di ricerca la medicina thailandese la medicina cambogiana vietnamita la medicina quindi del sud est asiatico beh devo dire che funziona la grande per esempio ho scoperto un faccio un esempio io siccome ho guidato moltissimo solitamente soffro di dolori al braccio guidato un po veramente non so quanto ma penso un milione di chilometri almeno l'ho fatto con il braccio sinistro e quando c'era cioè non c'era il cambio automatico quindi mettevi le marce quindi tenevi con il sinistro questo ha portato nel tempo a un allentamento di alcuni alcune cose l'ho sempre curato con con prodotti alchemici ed omeopatici ho voluto poi una volta che c'era un'infiammazione molto forte forte ascoltare un medico della medicina allopatica perché ripeto bisogna usare la medicina allopatica quando serve la medicina omeopatica quando serve la medicina alchemica quando serve attenzione non sto dicendo di non usare la medicina allopatica sia chiaro perché sono tutti di una unica medicina ma non è l'unica che funziona specialmente determinati casi quindi presi quello che quello che mi si diceva ok ho dovuto prendere per star bene la classica scatola da 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 20 situazioni non si erano fialettine cose varie non era contento volevo però specificare e volevo vedere come funzionava dopodiché cosa ho fatto va bene di questo bene passano il solito è a cadenza di un mese due mesi no passare come voglio fare il metodo classico che faceva paracelso tanti anni fa e che ho insegnato anche nella prima in una lezione un pezzettino per cominciare a impararlo sabato e domenica scorso e ho insegnato appunto ho preso questo metodo di paracelso l'ho fatto in una certa maniera e ho agito sul sul dolore del braccio mentre lì ci sono volute 20 fialettine quindi un al giorno 20 giorni via via calato caso parlato con questo metodo mi ci è voluto fatto la sera l'ho fatta agire la sera il mattino dopo non avevo più dolore e da dire che l'ho fatto ieri sera voglio dire quindi volevo vedere volevo non è che non lo sapessi lo so però è bello non non c'è farlo quando serve ora tenete presente che io non sempre faccio queste cose è raro che mi curo sono sincero chi mi conosce sa che magari c'è il mal di schiena il male di testa il male che ne fa il braccio ma lo lascio fare lascio fare perché lo lascio scorrere c'è mio solitamente mi muovo quando veramente dico non ne posso più ma non per toglierlo c'è attenzione non per guarirlo bensì per diluirlo in questa maniera o altri progetti o altre che vengono da una conoscenza differenza da quello di differente da quello che è solitamente nella coscienza della salute di oggi e quindi ottengo altre cose che adesso qui non è il caso di approfondire però quindi faccio in maniera che agisca questa classica tecnica della dell'alchimia antica nella medicina quindi e qui ho visto anche dei metodi dicevo c'è un guento particolare fatto in maniera particolare che è immediato quasi immediato in pratica e quindi e ho visto del che andando a prenderlo analizzandolo ho visto che molti delle varie dei vari ingredienti sono presenti per esempio nella in alcune ricette arabe di alchimia poi passate al mondo greco questo che cosa voglio dire vuol dire che qui partano da altri presupposti in arabia in meno quella più tradizionale partono da altri ci sono medicine che sono trattati da i professoroni in maniera molto no sono medicina primitive così eccola mentre per esempio i professoroni non sanno come fare ad andare a riprendere l'anima di una persona che si è persa per riprendere l'anima di una persona che se persa qua significa una persona che solitamente soffre di malattie o di disturbi per esempio mentali o della personalità per i professoroni c'è bisogno di tante medicine tante cose e c'è bisogno di cose incredibili e parlano di questa medicina che invece molto spesso con 5 6 10 sedute riesce a risolvere il problema di medicina come viene chiamata medicina primitiva medicina di credenza tutte queste cose qua perché i professoroni non hanno non possono assolutamente accettare innanzitutto che vent'anni di studio possono essere buttati nel cesso e tirato con lo scarico non sto scherzando non possono accettarlo e poi perché hanno delle carte le cose varie ora ripeto non sto dicendo che è tutto sbagliato no la medicina è una la conoscenza della guarigione e una la conoscenza della malattia è una quindi per capire come si va direttamente a trattare della medicina alchemica già to fast o fast o bombast o simone im ossia paracenso presi il nome paracenso per dire da celso bisognerebbe andare indietro nel tempo e andare a capire la l'alchimia e la medicina alchemica da celso per poi per andare al galeno e tutte queste cose qua ora bisogna comprendere che la medicina attuale si è ristretta completamente a il piano fisico quindi agisce solamente sul piano fisico perché quello che per ristrettezza mentale e per decadenza della civiltà decadenza allucinante allucinante non lo so che è ciclica però trovarsi dentro uno dice guarda che cosa ha fatto di male no però comunque allucinante quindi vede soltanto la materia tocca soltanto la materia non ha altri concetti oltre che la materia e quindi è chiaro che comincia a manipolare tutto tutte le cose possibili chimiche non chimiche vari andando a creare anche medicinali morti quindi non guariscono che li uccidono non sia certamente è proprio così è proprio così e trans umana e a noi non ci sta piacere a me non mi sta bene per niente c'è per nulla poi ognuno non per niente mi sono rivolto alla medicina antica e alle conoscenze che hanno attenzione anche medicina allopatica c'è il sistema dei contrari ma la usano quando serve quindi la differenza tra la medicina alchemica e la medicina di oggi è quella delle sostanze vive o morte è l'unica differenza la medicina alchemica agisce con sostanze vive la medicina moderna attualmente ripeto con sostanze morte a cui stata sottratta l'anima la medicina classica che noi che noi conosciamo solitamente in alchimia viene classificata sotto il simbolo del sale nel senso che si occupa solo della parte più densa poi vi è la spagiria o medicina omeopatica quindi possono essere abbastanza accomunate si occupa di quello che è la parte mercurio ossia più sottile la medicina alchemica vera si occupa dello zolfo cioè la parte animica la parte proprio che molto spesso perché nessuno va a toccare esiste la medicina globale che va direttamente a usare tutte e tre le cose e questa è la medicina perfetta la medicina paracelsiana la medicina del dorm la medicina dell'alchimia grande che tra l'altro a differenza della medicina normale che conosciamo molto densa se si sbaglia non succede nulla c'è bisogna comprendere bisogna togliersi dalla testa il fatto che si dica se sbagli paghi no questo se giustamente può essere corretto se stare guidando una macchina se diceva a 300 di schianti è vero ma la medicina dovrebbe essere assolutamente precisa e perseguibile da tutti e senza pericolo questo avviene quando il corpo umano è diviso in certi apparati come avviene nella medicina alchemica e c'è la simpatia o simpatia o le concordanze tra questi apparati e gli apparati universali attenzione ancora e attenzione altrimenti non mi avete capito e quindi c'è non non è bello non sto dicendo di non andare dal medico anzi andateci ma vi sto dicendo prendete anche in esame altro perché la medicina deve essere riunita la medicina ha bisogno di entrare nella pace bisogna prendere tutto quello che è conoscenza moderna miglia bisogna buttare le ortiche ma stiamo scherzando ma non bisogna fossilizzarsi solo con quello solo con quello per rifarmi a un medico asiatico tradizionale qui è bellissima che ci sono le farmacie normali poi ci sono le farmacie tradizionali c'è qualcosa di tradizionale però il famiglia di neto difficile da trovare solito li trovi fuori noi ci sono dei piccoli sono degli speziali antichi mi hanno dato anche per questo braccio una una crema fatta a base di chiodi di garofano ed altro che io so che chiudi di garofano ben usate in una certa maniera possono dare una certa tipologia di sollievo andando a fare certe cose è stato immediato da un bruciore fortissimo ma forte proprio disegno mamma mia cos'è ti brucia forte traditi ci dice calma dopodiché che fa la cosa iniziale questa alchimia va ad addormentare la parte che fa male solo questa e allora continui con gli altri medicamenti c'è continui sempre con lo stesso ma innanzitutto pensano al benessere del paziente no faccio un altro esempio se sia un problema all'occhio e è successo anche a me da un oculista classico ripeto non è che cosa costano abbastanza ovunque ti prendono l'occhio e te lo girano e tu fai per una cosa che c'era dentro un tradizionale della cosiddetta medicina tradizionale che sto vedendo è che voglio vedere le concordanze no con con l'alchimia la medicina alchemica e che molto spesso è seguita dai monaci tra l'altro c'è vari allora che cosa fanno innanzitutto ti vanno a mettere ea sistemare l'occhio in una maniera che esso loro dicono sia in pace dicendo che tutto deve essere unito e attenzione non sto sputando nel piatto dove mangiamo perché anch'io uso la medicina all'opatica uso la medicina all'opatica secondo cosa serve non secondo il livello cioè se deve essere variata l'appendice serve la medicina all'opatica la chirurgia apri fai chiude ma se non deve essere fatto non lo devi fare quindi dicevo dove deve essere l'occhio in pace quindi l'idea della medicina alchemica è identica mettere l'occhio in pace mettere la persona in pace tra l'altro la medicina alchemica ripeto non guarda a livello analitico guarda a livello sintetico per poi arrivare all'analitico cioè se io non riesco a digerire e non digerisco e mi viene l'acidità e il reflusso o qualsiasi ricorda io vado c'è città medicina alchemica va a vedere a livello fisico l'apparato funzionale c'è tutto tutto non solo lo stomaco tutto mi prende tutto l'apparato dopodiché sale e dice ok si informa e quindi li usa quindi usa una medicina salica con il sale la parte fisica densa della pianta minerali metalli quelli che sono poi usa una medicina mercuriale quindi a base alcolica poi sale ancora di più usa una medicina zolfica quindi a base di olio essenziale poi sale ancora di più sintetizza il tutto ne fa un'esaltazione ne porta una quintessenza e la tratta in altra maniera e quindi la quintessenza ceva oltre ciò che l'apparenza stessa della materia e di quella e di quella malattia e cosa fa quintessenza la malattia cioè quando una malattia si palesa questa è la spiegazione antica e quella cui credo ogni malattia non è altro che un tentativo dell'anima umana di eternarsi cioè quando vi è una malattia non è vista in alchimia come qualcosa di negativo certo va bene c'è una malattia ok ma è vista come un tentativo ripeto nella parte profonda di se stessi che tenta di andare in alto in alto all'interno di nace di avere una percezione o di essere spinto verso stati superiori dell'essere quindi ci sono malattie che sono c'è che vengono sempre da questa da questa spinta dell'essere verso qualcosa che sono mortali sono malattie che sono cosiddette carmi che ma qui intendiamoci quando si parla di carmi con non sto a parlare per forza di quello che diciamo azione reazione quello che ho fatto 25 anni fa mi accade quello che ho fatto 50 vite famigliacare quella è una cosa un pochino più popolare va bene però è buona avercela in mente quando parlo di carmico io ho fatto un po destino io parlo di un'altra cosa cioè parlo della posizione in cui si trova l'essere umano appena concepito appena nato e ogni anno della sua vita poi la posizione in cui si trova dopo i sette anni poi la posizione in cui si trova ai 12 anni poi ai 24 anni c'è quindi via via si va a vedere i vari flussi che si hanno nella persona nell'istante della nascita ora uno può dire vado di nuovo sti pianeti no non abbiate non guardate questo non immaginate c'è lasciare stare un attimo l'astrologia parliamo di energie presenti durante l'anno durante l'anno che si ripresentano sempre ed è normale che se io prendo le olive le posso raccogliere in un periodo i fichi in un altro l'uva in un altro i rododendri in un altro in una zona qua la c'è per molto spesso per l'alchimia sempre molte medici medicamenti non vengono neanche dati se la persona in un posto sbagliato cioè se tu soffri di che erano paranoia distruttiva o depressione compulsiva o effettuamento nervoso e stai al mare io non ti posso curare non posso curarti perché le medicine o i rimedi chiedito e ti do entro in contrasto con dove tu sei perché lì c'è quella tipologia oppure si nota in alchimia che a secondo come la curva del sole durante l'anno alcuni medicamenti funzionano altri no perché è innegabile che la presenza solare e lunare per fermarci solo a questo è perché poi è una cosa molto più ampia da un ambiente un'armonia una luce una un tutto che viene annodato nella persona facendo un pacchetto con per dire uno e uno e di marzo c'è una certa tipologia e non sto parlando di carattere di cellule fisiche proprio di bioenergia che chi è molto tutta dotato può sentire anche con il pendolo che attenzione non ridete quando parlo di pendolo o di bio tenso perché è sbagliato perché il pendolo non è altro lo spiego per molte persone che una specie di amplificatore cos'è immaginate questo per chi non lo sapesse immaginate che le energie che sono nell'aria le vibrazioni o quelle emanate dalle persone sono molto sottili tipo così quindi non sentite niente perché non sono molto sottili perché la mente distratta da altro senza altri rumori sempre altri suoni sempre altre cose è distratta dalle luci e distratta dalle cose che vede dai sentimenti dalle emozioni dai pensieri pratica tutto fa fuorché sentire le cose che deve sentire allora che fa un pendolo è un trucchetto già usato dagli antichi egizi è così anche il bio tenso cosa fa le forcelle con le varie ma esiste anche per esempio altra tipologia andando a toccare certe cose oppure come io faccio ormai nel tempo viene percepito dalla mano stessa il pendolo quindi è un amplificatore c'è quello che senti che fa tu lo senti ma non ne sei cosciente allora mettendo un pendolo in questa maniera il movimento è un amplificazione e come il figlio di colpo da ascolta tu lo senti cioè amplifica ciò che nell'istante sta accadendo quindi chi fa questo e ci sono cose straordinarie con i pendoli a secondo le lunghezze a sé perché indica secondo le lunghezze con cui tu puoi sentire ma questo è un altro discorso ma fa parte della medicina antica fa parte della medicina classica antica della medicina anche alchemica dove dove c'è stato questo la divisione o nell'epoca di panacelso ma forse anche prima c'è che ti mettevano a rogo c'è ormai oggi come oggi io quando leggo bill gates che dice il gates come cavolo si chiama stiamo attenti il covi sarà ancora per due anni dobbiamo vaccinarci per forza tutti bene questo qui non sta dicendo cose su cose serie che sta dicendo che non ci dice non voglio dire non mi sento di ascoltare una persona simile perché perché da che mondo in mondo da che mondo in modo attenzione una malattia inoculata non fa altro che favorire la malattia stessa che se voce questo tentano di fare il principio omeopatico che uno dei principi alchemici 1 ma in maniera sbagliata cioè io posso essere d'accordo con un vaccino ma se non è deleterio cioè se funziona nella maniera che loro dicono è come se fosse una goccia di medicina in una piscina di acqua quindi per loro ridono non funziona cosa che non è vero perché tempo fa mia moglie soffriva di nervo sciatico fortissimo per dei lavori che avevamo fatto a casa il medico ridiete delle cose molto pesanti proprio non guariva e così anche la zia e io li diedi semplicemente una semplice cura di arnica montana in chiave omeopatica è aumentata certamente ma non poteva fare di altro male ma in una settimana si è messa a posto non li è più venuto e vi parlo di 12 anni fa quindi voglio dire vaccini a livello alchemico esistono ma sono completamente diluiti e deve lenizzati cioè non danno la possibilità del danno ok perché perché all'alchimista non gliene frega niente che tu perché è un animo diverso devi tornare da lui per l'alchimista vuole farti star bene e vuole vederti felice allora ecco che perché sa che cos'è la malattia però ripeto lo sa che un tentativo di fuga verso altre dimore verso altro sentire verso qualcosa di profondo verso lo spirito da cui l'uomo viene anche in oso di anche in oso di certamente ma in oso di usati così non vanno bene non vanno bene non vanno bene ci stanno facendo questi queste cose contro la spiritualità la spiritualità e avere la percezione di qualcosa che c'è oltre questa cosa se voi ce l'avete non avete più paura perché io onestamente di morire dico video non me ne frega niente non mi importa nulla perché ho la percezione di altro quindi non mi spavento la maggior parte delle persone si spaventa e quindi giocando sulla paura cos'è così l'alchimia non è così mentre la medicina mentre le case farmaceutiche fanno questo perché vedono il profitto l'alchimista sa essendo in primis lui ad aver vissuto questo che l'anima di chi ricerca questo cerca dio o cerca la divinità o cerca una percezione più ampia chiamatela come volete quindi sa che commetterebbe ma veramente una qualcosa di molto brutto a livello di leggi e quindi che cosa fa non per paura ma per essere ligio a ciò che tutti dovremmo essere liceo e fare rigi cioè fare il bene lo fa senza volere niente in cambio perché non vuole niente in cambio c'è distieni fallo questa ma quindi per riallacciarmi un attimo al discorso della fatum quindi una volta che una persona nasce si manifesta in un periodo quello è lo stampo e il timbro pack e quel timbro è ciò che lo rappresenta per sempre ora io so che ci sono tanti omeopati in giro tanti medici tanti spagiristi alchimisti medici sono forse 12 non c'è non lo so io quando mi dicono vado da quello alla quell'altro io faccio andare tutti perché per il semplice motivo che non si va a capire una cosa fondamentale che il destino ti ha dato quell'impronta cioè la nascita ti ha dato quell'impronta ci sono cose che puoi vincere cose che non puoi vincere ti devi accodare ed entrarci dentro cioè quando una malattia è persistente questo è la regola quando una malattia è persistente e non la puoi vincere vuol dire che devi introdurti in essa e farti portare dove essa ti vuole portare perché è scritta dipende chi te l'ha fatta questa cura ci dipende come è stata fatta chi te l'ha fatta c'è poi che sia enormi danni di una cura omeopatica mi sembra un po magari tu sei molto sensibile magari qualcosa di un po particolare no un po però ci ripeto evidentemente c'è stato un errore molto grosso solitamente non dovrebbe darlo dagli psicofarmici che ne pensi allora allora attenzione io dico una cosa esistono dei momenti e lo ripeto in cui la medicina deve essere sempre una io non sto dicendo e lo ripeto ancora che la medicina ufficiale in questo caso della tua domanda non è buona sto dicendo esistono momenti che serve se serve se c'è un elemento acuto si agisce con la medicina allopatica quindi puoi fare se hai bisogno di qualcosa di simile per attaccarla puoi cominciare a farlo la medicina la malattia cronica solitamente usata con l'omenopatia per quanto riguarda al da sicuramente hanno attaccato un attacco acuto con attaccandolo con la patria è sbagliato per guarire si deve attaccare un attacco acuto crisi problemi con medicine forti saliche fisiche tipo appunto quello che mi dicevate voi quindi fisiche e quindi dare un colpo una volta dato il colpo si mantiene poi via via sciogliendo la medicina allopatica lasciando la sciogliere secondo l'alchimia cioè sia togliendo piano piano la medicina salica c'è proprio fisica chimica si va verso l'acqua e poi si va verso il fuoco ma allora come ragiona l'alchimia l'alchimia dice se tu hai un problema fisico molto grande comincia a fare qualcosa di molto denso terra man mano quando hai superato quella crisi e stai meglio comincia a scioglierla far diventare liquida e diventa omeopatia a spagiria man mano se poi hai avuto successo c'è tra passi alla parte eterica la parte superiore la parte di fuoco vedete come è razionale una malattia generativa e professione dei molti allora per quanto riguarda il fatto di avere queste problematiche che sono abbastanza serie come anch'io per esempio io sono un portatore sano di anemia mediterranea ce l'ho dove mi voleva portare e c'è un motivo le le malattie degenerative sono di nascita cioè pratica chi mi dispiace ma chi ha malattie serie molto serie e si trova sempre stampate sul proprio grafico di nascita che significa che c'è qualcosa al al concepimento e poi la nostra che ha creato questo e quindi dove vuole portare a una profonda assoluta totale vera consapevolezza che esiste solo lo spirito non per niente una sclerosi multipla blocca la parte salica dell'essere umano blocca quindi è proprio un tentare di fuggire fuori e come se ci si sente in una prigione e si vuole uscire fuori questo è per quanto riguarda ciò che per l'alchimia è una malattia salica c'è molto densa e quindi questo ma si trova il che deve essere una malattia così deve essere agita con tre rimedi solitamente quelli fisici effettivamente materiali che magari le stanno dando quelli a lunga percorrenza ossia omeopatici spaggiristi c'è cosa quelli invece spirituali alti che portano direttamente alla pace dell'anima e della mente alla persona che affronta questa prova molto potente e questo vale anche per le altre medicine scusate malattie degenerative queste parla l'alchimia non parla riccardo villanova io sono un semplice interprete la parte fisica poi si passa una parte sottile poi quindi si va a pulire di ogni veleno ci si può pulire c'è non come dico alle persone prendete delle medicine delle cose bene fatemi della purificazione già una bella una bella quintessenza riccardo mariano carciofo e tarassaco insieme con alcuni minerali che non dico perché devono essere analizzati ma già così funziona ti va a ripulire talmente e rivoluzionare tutto il fegato che ti fa fare una completa pulizia di tutti gli organi e quindi tutte le medicine prese prese ok la mia la di mineralizzazione e solitamente è molto importante farla con io parlo tempo a livello vegetale che non è pericoloso vedo minerale si fa sotto controllo perché ripeto bisogna deve elenizzare i minerali e non ste bisogna aprirgli e una lavorazione lunga solitamente la quercia il salice vanno ad essere talmente potenti nel rin mineralizzare insieme con la coda cavallina che in un paio di mesi scompaiono i disturbi provare basta andare in erboristeria e lavorarli e prenderli se non fermatevi solo alle farmaci ci sono c'è un allievo che farmacista però anche lei stessa sa ste cose e lo dice anche alle persone dice guardate questo non si può cura così vai la cura così quindi guardatevi intorno la macula attenzione è una cosa un po pericolosa perché è una di quelle malattie degenerative e quindi hanno dei problemi danno dei problemi l'importante la macula non si può guarire ma si può fermare bisogna andare a lavorare moltissimo con degli estratti di kiwi di come si chiama di chiodo di garofano e poi un minerale che bisogna dirlo a parte ripeto minerali che devono andare a mantenere completamente l'occhio sano io ti consiglio di prendere tanti ma tanti ma tanti minerali che possano sali minerali che possono andare a darti ciò che evidentemente ti manca per l'alchimia l'essere umano è perfetto se c'è qualcosa che si muove e non è un difetto e bisogna capire dove mi sta portando dove vuol portare se io non riesco a muovere la mano perché non la posso muovere che cosa ho fatto cosa ho pensato che incidente ho avuto di conseguenza quale incidente interiore che poi mi ha portato all'incidente esteriore cosa è successo dove mi può portare questo cosa mi vuole indicare la mano e afferrare la mano e creare la mano e accarezzare la mano e colpire cos'è che io ho fatto cos'è che non devo fare ho colpito o accarezzato e mi hanno tagliato la mano al livello interiore ho rubato ho fatto cosa ho fatto vi posso garantire che in ogni malattia che una persona va a vedere se chi si fa curare apre il cuore si trova sempre perché c'è quella cosa lì ma sempre o te non si trova si vede la carta nativa per andare a vedere oppure si vedono le rivoluzioni solari le progressioni si vede come stanno le energie che si muovono da quando è nata la persona e si va sempre a capire questa cosa solitamente il mal di testa è dato da un afflusso eccessivo di sangue quello che serve per risolverlo proprio per andare a risolverlo e prendere del mercurius a 5 ch per 23 metri a cadenza di dieci giorni nasce dieci giorni dieci giorni quindi fa fluidificare l'eccessiva concentrazione nella testa mercurius solubilis si va a fluidificare passa vale anche per il diabete ma il diabete è una malattia congenita nel senso che c'è già dentro e quindi molto spesso il problema del diabete oggi che non che non lo vanno a curare perché lo curano dopo che è scoppiato ma è possibile curarlo prima questo si può andare a vedere tranquillamente classicamente qua e con ciò che che è presente il diabete molto spesso è curato con la pigna la pigna verde perché diabete parte da un problema di ghiandola pituitaria è chiaro che i lavori sono a diversi livelli livelli erboristiche un livello di terra il livello già di distillazione macerazione un livello già spagirico il livello alchemico è difficile da fare che si deve imparare perché si devono imparare le deflagmezzazioni le le mercurializzazioni cioè ci vuole un po un po di quindi viene fatto da qualcuno ecco per ma è quello che io voglio insegnare siete interessati scrivete ad angelica grande opera punto alchemica che oggi ma il punto com parlerò di questo parlerò delle varie tecniche non vi voglio trasformare in medici voglio dirvi guardate per i principali per le principali difficoltà mi andrà a prendere questo fate questo questo e questo ma fatelo sul serio però non fate come alcune persone che cominciano stanno bene poi lasciano perché si stufano oppure perché ci avranno la partita di calcetto e lasciano perdere la miopia indica il non voler vedere quindi devi guardare dentro la miopia ti sta dicendo guarda dentro non guardare fuori uguale anche la macula guarda dentro io conosco una persona tra l'altro parente stretta che ha la maculopatia questa persona alla maculopatia perché non ha mai voluto vedere fuori io dicevo sempre devi guardarti dentro tant'è vero che talmente non si è voluta guardare fuori che insieme alla maculopatia anche se l'avevo avvisato è venuto senso di agorafobia senso di attacchi di panico claustrofobia non può andare neanche in un ascensore oppure in una sotto una galleria non può prendere in aereo non può prendere un pull ma capitolo perché perché rifiuta di guardare dentro e vengono della maculopatia perché lì devi guardare perché è una propria ti fa diventare cieco devi volto dentro si può fare niente sono momenti che non si possono fare nulla la psoriasi sembra incurabile ma non lo è c'è una persona che mi allieva che se che è tolta di mezzo innanzitutto a una base assolutamente di nervosismo una base di assoluto di assoluto nervosismo per guarda per curare la psoriasi serve la massima calma e tutto ciò che ti può dare calma sia di rimedi normali o di rimedi anche medici allopatici che sia di alchemici quindi quello che hai detto può fate molto bene per la per la psoriasi è questo che volevo dirvi quindi non vi preoccupate neanche nel momento di oggi con questo coronavirus e cose varie perché eventualmente vaccini medicinali come varie ricordatevi che l'alchimia vi dà la possibilità di purificare completamente il sistema sanguigno ma proprio ma completo e completamente anche le cellule quindi non con rimedi semplicemente semplici cioè rimedi medicinali no semplicemente con rimedi naturali però lavorati in una certa maniera di non vi spaventate più di tanto perché alla fine i rimedi ci sono ve li hanno soltanto coperti se come l'occhio di odino e fatti è proprio così bisogna guardare dentro di noi io guardo dentro e fuori è quello che io sempre dico anche nelle elezioni quando fate le cose dovete avere proprio un occhio aperto fuori e uno chiuso cioè dovete fare le cose duplici e questo si insegna in alchimia se siete interessati angelica faracino grande opera punto alchimica croce da gmail.com partirò andando a insegnare la medicina basica salica quindi le medicine estratte alchemiche dai sali delle piante e poi dei minerali le medicine estratte dagli alcali e dagli alcaloidi buoni e dall'alcol delle piante e minerali le medicine estratte dagli oli essenziali già ho fatto un libro sul mercurio un libro sullo zolfo potete già usarli voglio dire vi consiglio di usare con molta attenzione quello sullo zolfo perché gli oli sono molto pericolosi se non sono usati bene e guardate sempre che non siate alle dice niente non essenziale potente potente ma veramente potente c'è essenziale è talmente potente che è capace se ben usato di far passare di far passare addirittura un attacco d'asma in 30 secondi 30 secondi non è e non è il classico ventolin però deve essere saper usato perché altrimenti la peggiora quindi e poi sarà appunto insegnato le medicine singole che sono c'è nelle malattie singole di questi tre c'è dei tre componenti universali poi l'unione di a 2 a 2 quindi sale mercurio mercurio zolfo zolfo sale e dopodiché la l'unione delle quintessenze che quella generale fino a ad insegnare anche i vari elisir le vari vari elettuali e le panacee cioè che sono classiche lavorazioni per guarire un po in generale tutto perché non è che guariscono mettono in equilibrio l'essere umana non sa male e quindi quello significa guarire la panacea che non significa che già quindi questa guarisci tutto la panacea ha la capacità di rimettere in equilibrio se è fatta bene e quindi se c'è una malattia ti rimette in equilibrio con la malattia sparisce di mettersi in equilibrio significa entrare in contatto con la parte profonda di se stessi non c'è altro modo molti rifugono questa cosa perché si devono guardare devono avere a che fare con se stessi però in alchimia questo è fondamentale come in ogni scienza dello spirito se non ti guardi e non sai chi sei la saper del genere te ne parla poi ma prendete le medicine comuni e normale vertigini e sbandamenti e lì secondo l'alchimia viene detto che il corpo sottile il corpo di luce il corpo vitale il corpo energetico come direbbe yoga nanda il corpo vita non è centrato perfettamente non è perfettamente allineato con il corpo fisico sicuramente questo e deriva da una nascita in cui la luna sicuramente è in qualche posizione e in qualche posto e in situazioni con stelle cose varie aspetti che la porta a essere sballato per giungere a non avere sbandamenti vertigini e cose varie anche qui una cosa molto utile ma brevemente è la quercia oppure è anche l'ulivo se non si è allergici perché danno stabilità la radice di quercia questo te lo risolve se viene presa viene fatta a livello anche anche erboristico semplice migliorare genetica tutti gli effetti mi fa sempre pensare che l'eredita perché prendete il testimone per risolvere qualcosa sicuramente per risolvere certamente come ho detto per risolvere certamente qualcosa questo vale anche se a qualcuno che ne so accade qualcosa anche proprio di fisico ce ne so io conoscevo una persona che lavorava in una falegnameria e si tagliò il dito si tagliò e da lì cominciò no a soffrire il motivo c'era poi l'abbiamo trovato quindi le malattie genetiche dice stesso non è una cosa della persona che ce l'ha la persona che ce l'ha è solamente sfortunata perché viene dalla famiglia quindi c'è un problema che è solitamente familiare è a livello alchemico si va a vedere che è successo quale negli ascendenti chiaro che c'erano i problemi e si va a trovare purtroppo chi ha la malattia genetica e colui che è chiamato a risolvere questo tentativo di interiorizzazione o di andare oltre eccetera ma risolve tutta la famiglia è sfortunato perché magari perché non è venuta quello prima di me o quel dopo di me è sfortunata però sfortunato solitamente si dice che la croce si dà al più capace a a a Grazie a tutti.